il pappagallo parla e ripete tutto quello essente no ragazzi è terribile gabriosta è molto disperato e molto dispiaciuto ma perché ma perché ma non si rialza più perché ha smesso di respirare doveva fare sta fine vampa la pagherà per questo per averla pugnalata cosa stai facendo otacon perché apri la gabbia ho capito ti piace questo pappagallo e prendetelo ecco sta piangendo anche otacon gabriosta e otacon pianto oh no l'arsenal gear è pronto al lancio bisogna evacuare immediatamente dobbiamo lasciare la big shell non riusciremo a far salire tutti a bordo otacon puoi dire addio a tua sorella mi dispiace non potrà venire con noi emma ah fra poco inizierà il conto alla rovescia quindi bisogna fare alla svelta e sbrigarci accidenti la giacca di otacon è sporca di sangue vabbè arrivederci